buongiorno bella gente dal pelo lungo e dalle corna belle e dall'alito che sa di pan di stelle è giovedì mattina sono esattamente le sei e un quarto e come sempre è arrivato il momento degli spoiler completi praticamente abbiamo quasi l'intero capitolo in raw quindi in giapponese e abbiamo l'intero capitolo abbiamo il riassunto dell'intero capitolo il riassunto completo un po più dettagliato iniziamo dal titolo capitolo 997 homura homura è un sinonimo di fiamma ma e questo sinonimo può essere utilizzato in due maniere sia per indicare una fiamma fisica ok ma anche per indicare una il fatto di essere infiammati da un sentimento quindi la fiamma di un sentimento la fiamma della rabbia la fiamma della passione e poi intendo una fiamma una fiamma vera e propria come vedremo alla fine del del riassunto nella copertina vediamo sanji intento a meditare nella posizione del loto ma che mentre sta meditando sta guardando fuori e infatti vediamo l'occhio a cuore che praticamente esce dall'orbita e va verso l'esterno cosa c'è all'esterno all'esterno c'è nami svestita come suo solito che sta giocando a pallavolo e dietro a sanji vediamo un tanuki con tre spade che praticamente lo sta mazzurriando perché non è non sta meditando abbastanza infatti vediamo i bernoccoli sulla testa di sanji a questo punto come sempre il capitolo inizia esattamente dove era finito la scorsa settimana dove terzo piano davanti alle stanze di black maria e prima praticamente lo il capitolo scorso finiva con una visione del volto di sanji una vista sul volto di sanji che sente qualcosa bene sto giro vediamo sanji ma che vede qualcosa vediamo esattamente la scena come avevamo raccontato nella fatale for reading di domenica cioè una donna che praticamente sta girando come una trottola e un uomo che le sta tirando la cintura e di questi due vediamo solo la silhouette dietro allo shogi lo shogi sono praticamente quelle porte di carta che vediamo praticamente nei film giapponesi nei film di samurai quindi sanji cosa fa fa il mister prince della situazione assalta con un calcio questo shogi entra dentro per andare a salvare la donna in difficoltà il problema è che come rapalese non c'era nessuna donna in difficoltà questi due erano lì ad aspettarlo e gli hanno teso una trappola tant'è vero che davanti anzi dietro allo shogi c'è una ragnatela sanji ci finisce in mezzo i due sottoposti di black maria lo corcano di mazzate e lui si ritrova a terra sanguinante davanti a black maria e alla sua corte di shinuchi tutta la corte dei shinuchi di black maria è praticamente formata da personaggi che ricordano yokai quindi demoni giapponesi quindi fantasmi giapponesi un personaggio assomiglia a un'annia e poi ci sono altri personaggi ma io non sono molto esperto di yokai giapponesi a quel punto spostiamo la si sposta la scena e vediamo due gifters che attendono rufi e jimbe davanti alle scale per il quarto piano sono poker e miserca e poker è praticamente un gifter un gifter e serpente mentre miserca è un altro gifter gorilla poi non ve lo sto raccontare lo vedrete quando quando vedrete i personaggi direi che si sta divertendo tanto da fare questi gifters ma cioè loro sono lì davanti alle scale che aspettano jimbe e rufi il problema qual è il problema è che jimbe e rufi hanno incontrato i samurai questi samurai hanno fatto un buco nel soffitto gli hanno costruito una scala e loro praticamente stanno evitando come la peste di andare verso questi due questi due gifter quindi praticamente ci sono loro che aspettano e il nulla cosmico con le balle di fieno che 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 girano senza nessuno che arrivi a quel punto cambio di scena passiamo alla alla sala principale quella dove c'è tutta la la caccia dei corioni praticamente abbiamo big mam in volo ma non la vediamo a pieno è un puntino in alto già verso il già verso il tetto e vediamo una scia di qualcosa che vola fuori dal buco creato nel nella carotta nel momento in cui questa cosa perché non la vediamo vediamo solo la scia passa al di là del foro vediamo qualcosa di piccolissimo di microscopico che cade giù e zoro si rende conto che quello che sta cadendo non è altro che un braccio e riconosce il braccio di kikuno jo a quel punto è completamente infuriato lo vediamo in una in un'espressione di rabbia totale e a quel punto decide che è il momento di chiuderla lì praticamente colpisce apu con una tecnica di iai quindi con una tecnica di estrazione che ricorda tanto una scena finale perché noi veniamo zoro in primo piano con la spada appena sguainata quindi come se avesse fatto una tecnica di iai e l'avesse rinfoderata subito apu colpito e con gli occhi bianchi e drake che stava andando a colpire apu con una faccia completamente stranita come se avesse appena visto davanti a sé e qualcosa di un livello completamente superiore la cosa che fa molto strano soprattutto per un fumetto giapponese è che zoro finisca apu uno senza ovviamente per quello che è lo standard di one piece senza mettersi la bandana che vuol dire che per sal per zoro e vuol dire non essere neanche nel pieno del combattimento nella serietà totale del combattimento ma la cosa ancora più strana è che lo ha finito con un attacco innominato cioè lui non ha dato nessun nome all'attacco che è ancora più indicativo della differenza di potenza che c'è in questo capitolo della differenza di potenza nel momento in cui zoro decide di combattere seriamente a quel punto vediamo zoro che prende gli anticorpi li da chopper e gli affida praticamente il piano chopper annuncia che il virus praticamente è fuso con un gas raffreddante un gas congelante e quindi dice a tutti gli infettati di riscaldare il proprio corpo con il fuoco per fare in modo che il che il virus smetta di espandersi di allargare la sua virulenza a quel punto vediamo queen che rendendosi conto la situazione prova ad attaccare e tutti quelli del piano terra ma zoro completamente incazzato e qua vediamo veramente la fiamma della rabbia l'omura del titolo praticamente distrugge il bazooka di queen con un attacco a distanza che ricorda tanto una delle passioni della fenice quella più di livello più basso quella fatta con una spada sola quella con una spada sola e gli urla che non è qua per giocare è qua per abbattere kaido il più forte del mondo quindi qua per affrontare ed abbattere il più forte non per i giochini in quel in quel momento l'isola comincia a tremare e come se colpita da un terremoto devastante brooke arriva arrotolando e fa la gag come se fosse convinto che e fosse l'acchi di zoro a creare questo terremoto ma non è esattamente così e zoro a quel punto cerca una strada per andare verso la verso la carotta solo che abbiamo sia king che queen che sono praticamente a guardia di quel foro per andare sopra il tetto a quel punto vediamo praticamente tutte le reazioni a questo terremoto e abbiamo i pirati di lo che tentano di avvicinarsi all'isola ma che si ritrovano con tante rocce che stanno praticamente precipitando non tanto dal dall'alto ma quanto già nel nel mare si ritrovano con tante rocce che occupano lo spazio e quindi non riescono proprio ad avvicinarsi abbiamo poi Yamato assieme a Mosuke e Shinobu che sono usciti già dal cranio e stanno andando verso il porto per andare tutti quanti sull'isola principale ma nel momento in cui arrivano al porto si rendono conto che non ci sono più navi non ci sono più navi e non c'è più il mare e capiamo il perché quel terremoto era l'isola che si staccava dal mare e andava in volo verso Uano verso la capitale di Uano quindi la capitale dei fiori e praticamente la tecnica utilizzata da Kaido si chiama Homuragumo quindi nuvola di fiamme e trasporta praticamente questa isola in volo verso la capitale a fine capitolo vediamo Kaido da solo, completamente da solo, sul tetto della calotta dire è il momento di cominciare, cominciamo questo mondo di violenza e il capitolo si chiude qua con questa bellissima splash page qui finisce il 997 la prossima settimana non ci sarà il 998 che dovrebbe uscire nella settimana tra il 7 e il 13 quindi dovrebbe uscire credo il 13 se non dico una sciocchezza quindi abbiamo una settimana di vuoto detto questo ragazzi seguiteci sui social seguiteci qua su Youtube seguiteci su Twitch seguiteci su Facebook seguiteci su Instagram vogliamo arrivare ai 10.000 quindi ragazzi metteteci like su Instagram se vi è piaciuto il video mettete un commentino qua sotto mettete like, mettete dislike è indifferente potete mettere sia uno che l'altro l'importante è che lo mettiate perché serve al video per essere ancora più visibile quindi aiutateci mettendoci like o mettendoci dislike detto questo ragazzi ciao a tutti e buona giornata e buona giornata